Un'ordinanza di arresto è stata notificata presso la casa circondariale di Contrada Petrusa dai carabinieri della stazione di Canicattina, esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Palermo a carico di Leonardo Nanaca Pizzi, 35enne del luogo. L'ordinanza a carico di Capizzi è scaturita dalla mancata presentazione alla Polizia Giudiziaria a provvedimento cautelare a cui si era sottratto nei primi giorni del mese di novembre scorso. A Castrofilippo i carabinieri della locale stazione hanno arrestato invece su ordinanza Gioacchino Cinque Mani, 52enne, macellaio del luogo. Il provvedimento a carico del commerciante, già noto alle forze dell'ordine, è stato emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Agrigento poiché deve scontare sei anni e mezzo di reclusione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e munizioni e ricettazione. Subito dopo l'arresto Cinque Mani è stato trasferito alla casa circondariale Petrusa di Agrigento.